Assembramenti a code questa mattina al centro vaccini delle cliniche di San Pietro. Gli orari degli appuntamenti non sono stati rispettati causando lunghi attese. Mi dicono l'appuntamento alle 10.10, puntualissima, no? Invece? Che ora sono adesso? L'appuntamento voglio. È una buffonata, dai. Io prudentemente sono arrivato mezz'ora prima, però non pensavo di trovare 70 persone prima di me, perché di fatto ne ho 70 davanti. Qualcosa sembra non aver funzionato nella modalità di prenotazione. In tanti lamentano l'eccessiva concentrazione di persone. A me sembra un po' troppo assembramento. Sembramento, ma l'assembramento c'è perché secondo me non è organizzato bene. Dopo l'appuntamento non è servito a niente perché hanno fatto in proporzione ai primi arrivati, hanno dato il numero e quindi devi rispettare il numero e non l'appuntamento. Intanto si teme, vista l'attesa all'aperto, per le condizioni meteo di domani. Ci hanno fatto venire per le 9.30, siamo arrivati alle 9, però ancora siamo in fila, stiamo aspettando. E oggi ci è andata ancora bene che fa bella giornata, però domani che è previsto pioggia, vorrei vedere dove dovreste venire domani. A spaventare in ogni caso di più è l'attesa, mentre la psicosi vaccini non pare contemplata. Non ne capisco niente, sono tutte uguali per me. No, non ho paura. Ho paura più del combi, della verità che si dice. Il vaccino no.